Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Nnedi e bentornati su GTA 5 Allora, come sempre sul mio canone, sul mio bellissimo canone Allora, l'ultima volta avevamo rimasti che avevamo salvato il signor Michael Adesso però dobbiamo andare a fare un paio di missioncine Anche perché il bureau, come potete leggere dal messaggio che ci ha mandato Lester Ci vuole parlare e gli ha dato appuntamento alla fabbrica tessile Andiamo a vedere che cavolo vogliono Nel senso che magari questi si sono messi in testa cose che si devono mettere in testa Tipo i mollettoni, i suomini, non è meglio che ti metti in testa i mollettoni Se no, che tu metti a fare il molletto in testa Eh no, la mia te maine, non la tua Ho fatto la pia nel culo Ok Andiamo a vedere Andiamo a vedere Chi sarà mai a quest'ora di notte Andiamo a vedere Questo è il film Aldo Giovanni e Giacomo in teatro Ve lo consiglio di chi è il telun, è stupendo Ok, andiamo a vedere che chiavilo vogliono Che chiavilo Allora, questo qua è Salomon Che è il Grazie Se C'è una tuta spaziale Leggermente Perfetto Andiamo a vedere Prima volevo vedere Salomon Che sarebbe Il Ehm Come diavolo si chiama No, di qua Oh, scusa fratello Non volevo Scusa Che è il film Il nostro bellissimo film Ok Ok Bene Andiamo a prenderlo Uh con il grande delivery che non vale un cacchio Perché non corre un cazzo sta macchina È solo massiccia È solo massiccia e basta Non fa nessun tipo di Non fa nessun tipo di corsa strabiliante sta macchina Nooo ma che cazzo ho fatto Ma sul serio Ma sul serio Ma porca di quella porca Ho sbagliato porca Bacca maiala Ma porca miseria ladra È fatti Troppo tardi Troppo tardi Perché? Perché sono tardone Ho spinto la F invece che la D per girare Mannaggia a me Quando svengo con ste strombolazzate che faccio ogni tanto Guarda Mannaggia a me Io dico no Dai 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 Andiamo a prenderli dai Cominciamo a preparare Un'arma figa Allora Qui Ok radio spenta Prendiamoci Un'arma figa Stavolta voglio spingere la D e non la fottutissima F Morto Morto Morti Pensavo che ero in tipo duro In effetti Ok Lasciamo l'aria Andiamocene pure tranquillamente via Neanche Guarda Neanche me c'è impegno su ste stronzate Guarda Volevi Morti Decetuti Andati Ok Ok Eh ok Ok Andiamo subito Così vediamo subito Che c'ha Che c'ha da gicce Sto Salomon Oh Oh Quante brutta Sta macchina Raga Quando cazzo sono Ah vabbè Ho usato un po' una scorciatoia Dai Sto usando una scorciatoia Cioè Oh mio dio Ups Vabbè è una jeep Scusate eh Ma la posso utilizzare Come essa sia Eh un fuoristrada Lo uso come fuoristrada Non ho capito Forse l'ho usato un po' troppo Violentemente come fuoristrada Ma è un fuoristrada Lo uso come fuoristrada E' morta Guardate questo Oh c'è un po' di sangue Un mapporello Probabilmente Gli ho rotto Il setto nasale Sai Il setto Nasale Quel coso Che serve per respirare Ok Adesso Questo tizio Mi sta vedendo Con la macchina Piena di sangue No? E cosa Mi apri per fuori Ah ok Grazie Morto gentile Molto morto gentile Vai Via Io li lascio negli studi Tanto sanno cosa fare Con una macchina Tutta rovinata No? No? E dall'altra parte E' di sopra Sicuramente Nope Sì è qua E' qua Eh infatti Dicevo io Ok Che ci Che offerta ci fa? Come in Thank you Thank you Thank you Yeah Turns out Maybe I'm cut out For the movie business After all Huh My friend You're a sentimental thug With zero artistic training And nothing interesting to say I would say You're overqualified Anyway Shut up And take a look at That Wow Oh Fucking A Feels good Doesn't it? Feels like I've finally done something with my life Actually done something A movie Welcome to show business Nothing but make believe Will ever feel quite real again Alright Michael Come on Let me show you some rushes I think you're gonna love it But it'd be great to hear your notes Ma che spettacolo Hey baby I just wanted to tell you I'm finally doing something with my life I'm making a movie A real one Call me Ok 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 Abbiamo fatto Un'associazione Ehm Vabbè Bella ballata di poco E abbiamo adesso Un film Associato a un producer Michael DeSanta Stupendo 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 Benissimo Perfetto Allora ragazzi Io direi di andare Ehm A Parlare con Il bureau Anche perché Ehm È quello che Dovremmo andare a fare Perché Lo dobbiamo sicuramente Andare a controllare Sto bureau Perché il nostro amico Lester Ci ha mandato Una bellissima Ehm Un bellissimo Messaggino Scrivendoci che Il bureau ci voleva parlare Dobbiamo andare Nella fabbrica Tessile Di Lester Perché gli ha dato L'appuntamento Lì Certo Io gli avrei dato D'appuntamento D'altra parte Perché il bureau Che sa Che c'è una fabbrica Tessile Che Lester C'ha una fabbrica Tessile Non è proprio Il top Per esempio No Perché se Eventualmente Devi fare qualcosa Di un po' più Losco E la devi fare All'interno Di questa fabbrica Tessile Madonna ragazzi Ho un mal di denti Spaventoso Ehm Dovremmo Riuscire a Sgavar Sgamarcela Insomma Senza avere Problemi E invece Lester Gli ha dato Appuntamento Qua Un altro furbo Proprio Un furbo Proprio Un genio Cattivissimo Me Ti faceva Una sega Proprio Un genio Nermale Ok Andiamo a vedere Lester Andiamo Andiamo Via 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 Tutti Via Tutti Via Tutti Ma che cazzo De cacca Sono già messo Mi fio Ma che cacchio De clacson Ha messo Sto deficiente Di un figlio Bah Vabbè Ma che Tu madre È una Motherfucker Non io Vai Andiamo Da Lester Scendi 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 Certo C'abbiamo Una pallotta Infilata Un po' Di sangue Infilato Qui Però È uguale Andiamo 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 Fabbrica Tessile Eccolo Qui Lester Sì Madonna Sì Oh, sì. Eh, sicuro. That will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. No. And if you do this, I'll make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course. I'm a man of my word. Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck gentlemen. L'ultimo favore che gli faccio, perché davvero... Poi, io già l'avevo sbroccato da moda, un bel pezzo. Ok, andiamo nella sede dell'FIB. E andiamo a vedere. Ok, un serbiente forse è meglio, sì. Ok. The janitori sono tutti in contattati tempi. They get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our inn. Ok. Is there a particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83 QSL 722. Now, follow him and see what we think. Sounds good. Ok. Quindi dobbiamo fare così. You should be coming out here soon. Ma che spettacolo. Nope. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Radio spenta. Che spettacolo. Here we go. Another guy. No. So, what do we do? What can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Something's coming. That's not it. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. That spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Pulido score. We need something. Yeah, see what you can do. Dai. There she is. Eccolo la. Stay behind him, but don't let him see you. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Hmm, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want us to do. Okay. 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 We need more. We need more. We need more. We need more. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now. If it's okay with you. God, you're worse than my son. That's it. As much distance is a little reckless for my taste. Close in. You want to break into the FIB's West Coast headquarters? You're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you keep this car behind that one in between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Okay. Certo, con sta macchina coi soldi sui gomme. C'è sgamera, che dici? Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? For my own peace of mind, can we get a little closer to him? We need cooperation. And maybe his overalls and an ID. And if he doesn't cooperate, you know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Okay. No, fermi. Troppo vicini no, troppo lontani no. Ma che palle, oh. Un cena viene mezzo. He's gone left there, you see? Sì, io vedo, vedo. Tranquillo, rilassate. Mi sa che è arrivato a casa il tizio, eh. E ha cercato pure uno. He's pulling over. Stop down the road a ways. Okay. Hey, Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, um, I'm busy. Only once you need something. Jesus. Time to make Harvey an offer. Feel him out. Okay, andiamo a sentire cosa vuole. Oh my God. Hello. You got another one of those, Harvey? Mm-hmm. Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. I'll take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball? I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Eh, che spettacolo. È inutile che te lo dica se non fai quello che dico io. Andrei a giocare a carte con anziani. E berrai, d'ora in poi mangerai con una cannuccia. Oh, yeah. We gotta go back to my office. Sì. Ok. Torniamo nel tuo ufficio, andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ok, ragazzi, ok. Sembrerebbe una cosa molto pericolosa, ma molto figa. Yes, you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS Bay, so I thought Frank could tail him and take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to buy... E' un po' difficile prendere la pianta di quell'edificio. Millions? They blew that much. Government contracts, license to steal. Wow. We are in the wrong business. No, we've just taken the wrong contracts. Oh, questo è Franklin. He's already here. E' arrivato Franklin. Ma Lester, però sei lento con qua la gambetta, eh? Eh dai, sei un po' zoppetto, eh? Eccolo qui, signor Franklin. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. See, there's Steve Haynes, or it's Trevor, or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. A fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog. It's either this, or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need a paper copy. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog. I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good, good, good. Mm, okay. Bene. Missione completata. Okay. Ripulire il bureau. Ovviamente adesso dobbiamo ripulire il bureau, nel senso di togliere tutte le informazioni nostre e le loro, ovviamente, perché anche le loro, ci sono in mezzo anche loro. Okay. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio e spero che questo vi sia piaciuto e che vi piace a questo gioco. Continuiamo sempre con il gioco bellissimo di GTA V e tutti gli altri GTA. Ovviamente poi finirò tutti i GTA, fino a che non uscirà il 6, che mi pare che non è una cosa detta e stradetta, ma tanto qui la gente non lo sa se fa uscire, non si sa se esce il 6 o no. Allora, diamocene nel rifugio rifugioso. Eh, ovviamente io non... Okay. Rifugio rifugioso. Vado a salvarmi la partita e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!